Geras, quanto tempo. Ormai sono Eoni. È bello vederti. Vale anche per me, Lord Liu Kang. Il dovere è la mia priorità assoluta. Geras è il guardiano della Klessidra, un oggetto celestiale che esiste oltre i regni. Essa può regolare il tempo e il destino. Geras è il guardiano della Klessidra, un oggetto celestiale che esiste oltre i regni. E' il protettore del regno della Terra. Vestire il potere richiede una grande saggezza. Riavviando il corso della storia, hai anche alterato il destino di alcuni malfattori per neutralizzarli. Creare una linea temporale non è affatto facile. La pace che desideri potrebbe rischiare di essere compromessa. Riavviando la viene aiut Ferrari. Comeva! Riavviando leressed delle stratate. Riavviando le trashazioni. Grazie a tutti.